Procchettiamo della presentazione di Vicino Lontano per parlare un po' di quello che la Regione vuole fare nel prossimo futuro, cioè investire in modo innovativo sulle iniziative che si stanno già affermando sul territorio, però sottolineandole dalla parte la qualità, l'eccellenza c'è sempre stata, dall'altra parte invece la capacità di questa siccola novità di connettersi con l'intero territorio di collezione fra loro, col mondo universitario, di connettersi con temi diversi e con formule anche nuove che non siano quelle scontate, quindi diciamo non più l'evento da eventificio fino a se stesso, non più neanche la cultura tradizionale d'Italia, come si sono nuovi strumenti che possano essere realmente apprezzati sia dalla cittadinanza, quindi con l'interesse proprio delle persone che abitano, ma sia anche con l'attrattività del sistema regionale. C'è una visione proprio di nuovo benessere sostanzialmente, di nuova attrattività della nostra Regione che è già ben posizionata dall'immaginario internazionale e nazionale, ma che può fare con una selezione di tipo diverso molti passi avanti. Grazie.